Dopo le indiscrezioni già filtrate nei giorni scorsi, oggi c'è un comunicato stampa ufficiale che chiarisce dettagli dell'operazione Piazza Pulita svolta dalla Guardia di Finanza di Salerno sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Vallo della Lucania, volta ad accertare a fare luce sul fallimento dell'Aiele, la società pubblica tra le più importanti della campagna nel settore della gestione dei rifiuti, costituita nel 1998 per svolgere il servizio di igiene urbana in 49 comuni del Basso Cilento. La SPA aveva creato un buco di 30 milioni di euro nei bilanci, più dell'80% del capitale sociale dell'Aiele era detenuto dal Corisa 4, il consorzionato per fronteggiare l'emergenza di rifiuti in campagna. In tutto sono 29 gli indagati, tra amministratori, componenti degli organi di vigilanza e consulenti, ben 45 le ipotesi di reato contestato che vanno dalla bancarotta fraudolenta, frode fiscale peculato e falso in bilancio. Per 20 anni l'azienda ha curato la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti fino a vantare un organico di 263 unità, ma già a partire dal 2013 c'era stata instabilità finanziaria a causa dei comuni fruitori del servizio che non pagavano i servizi ottenuti. La profonda instabilità finanziaria ha condotto la società da prima alla liquidazione e successivamente al fallimento. Le vicende societarie sono state oggetto di un accertamento da parte della Procura, poi riuniti in un'unica indagine dalla quale è emersa la sistematica inadembienza degli obblighi verso gli istituti di credito, che avevano anche per esempio erogato cessioni dei quinti agli stipendi che invece venivano trattenuti dall'Aiele direttamente per scopi propri. La finanza ha scoperto fatture relative a veicoli di proprietà di alcuni dipendenti riparati interamente a spese della società. Avendo perso i requisiti di regolarità contributiva prescritti per gli appalti pubblici, l'Aiele affidava ad altre, a cooperative create ad occhi i propri servizi. La massa debitoria, come dicevamo, ammonta 30 milioni di euro. Sono stati sottoposti a sequestro, beni per 4 milioni di euro a quanti sono risultati indagati nell'ambito dell'indagine, durante la quale è emersa anche che il presidente del Consiglio di amministrazione, pur avendo rassegnato le dimissioni, aveva comunque di fatto continuato ad occultare l'Aiele dando disposizioni a dipendenti e dirigenti anche in ordini attempistiche e pagamenti.